Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, MrSims4Life e benvenuti in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questa è la parte... Madonna mia, io mi dimentico ogni secondo della mia vita, ogni cosa. Se non sbaglio è la parte 5. No, sì, la parte 5, diciamo così, vai. Ok, il nostro Sim si stava... cosa stava facendo? Si stava dando una sistemata. Perché si sentiva abbastanza indecente. E noi cambiamo l'abito e mettiamo un abito quotidiano. Ok. In genere... Fa una doccia fredda, ecco, perché la nostra Sim si sente fil... filtrante, fil... Ma come che... Ah, chi si dice? Sono filo della mia casetta. I capelli che arrivano dentro, la cosa dove esce l'acqua, c'è... Non si può. Ecco adesso che usa. Seguirà. Seguirà. Uovo e tosse. Ah sì, perché sta migliorando la pietà di cucina. Cioè, io spendo più soldi per cucinare che per guadagnare. Non mi piace comunque sto fatto che bisogna pagare ogni quartiere di cucina a questa cosa. Era meglio quando con Sims 2 facevi la spesa. La padella è anche antiaderente. E si sente fiduciosa. Esercitarsi nelle battute. Giunti a livello 3 di cucina. Yeah. Freaking. Che lascia. Madonna. Devi fare tu, mi dispiace. Faccio così, ecco. Ma te ne so. Divertimento. Guardo un canale. Canale comico. Si manda un bacio da sola, cioè no. Si sente tesa, poi si sente fiduciosa. No. Perché oramai l'ha tradita? No. Paolo dovrà arrivare molto presto. Ecco, ecco, come è successo anche l'altra volta, cioè sta acqua. Amoreggia. No, no, no. Oh. Ti stacchi da vicino a sta tv. Cioè sei entrato senza nocco il permesso. Slufa. Muah. Nurtro a close anex. Bisi. Muah. Fadish. Vobisi. Muah. 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 Sue. Sui. Uah. Mi. Muah. 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 Fai... Flynn... Crummi... Oh! Ah... Uh... Uh-huh... Uh... Supe-dub... Uh... Eh... Abe... Oh... Um... Oh... Um... Oh... Yes... Oh... Oh... Cosa c'è che non va? Uh... Supe-dub... Eh... Abe... Uh... Eh... C'è... Eh... Paolo è imbarazzato... Oh... Paolo. Oh... Ha-ha... Eh... Er... Ehm... It's Glame... Oh... Uh... C'è che... Ah... Uh... R'e-bou... Uh... Oh... Uh... Sheshub-de... Uh... poverino lui si sente imbarazzato e come fa? ah ecco provo a cicchierare che state facendo? lui si è infiato nel mio letto ma che sta a dormire? cerca dei meme altre scelte romantico accoccolati che carino che parola carino che massaggio andate a lavoro non mi sono manca accorto vabbè cioè guarda la mia stupidaggine fino a che mi viene rinrita devo finire di parlare che si sembra un cretino va bene io aspetto che la messi intorno dal lavoro e ci vediamo dopo aspetta no aspetta o no i piatti sporchi si stanno accumulando e Tisha non riesce a stargli dentro Tisha può sovraccaricare la lavatrice o lasciare qualche spiato sovraccarica la lavatrice ops la lavatrice ha avuto una varia ora Tisha deve lavare tutti i piatti a mano pulendo anche un pasticcino schiumoso che schifo vabbè non fa niente è andata male la giornata magari su non puoi scegliere cosa ecco lavora sodo mi dispiace non c'è Danila albergini chi mi viene tutora la porta stranamente noi ci sono arrivate le bollette cioè cosa vabbè comunque io aspetto che la messima esce da lavoro e ci vediamo dopo eccola qui è tornata da lavoro oggi Tisha ha guadagnato 148 simulanti anni e anche svolto di lavoro superbo cioè cosa o non li deve lavare i piatti divertimento è che ti devo dire cerca di calmarti davanti allo specchio ci vediamo Nesti bine, nesti bine, ma che sto nesti bine A tisaggio, si lo so Non vabbè, vai a mangiare Non vabbè, vai a dormire, tutto vai a mangiare Vabbè, io aspetto che la sim Si svegli, si, si svegli E ci vediamo dopo Ok, la sim si è piena svegliata, cosa c'è, c'è fame Consume il brunch Frittelle Andiamo di pancake Buena, non l'ho usato manco una volta Sto forno al microonde Non lo vedo When a news is the fucking perfect to me If we come tol e campone di pink, ma va be Devo muovere a mangiare Ecco qui bellissimi panchechi Manca un solo piatto Madonna mia ma questo è sempre tesa 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 Ma di che? Guarda un canale Canale comico Invita il tuo boyfriend Deglupi Deglupi Ma con chi sta parlando? Deglupi 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 Biasi E' un pozzo Adesso Deglupi 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 Dracca Gli Siamo Deglupi 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 mando un bacio altre scelte se mi attarezza la guancia sono un dimone e finalmente no proponi le nozze ecco sto facendo il doppio video oddio accettato si 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 adesso dobbiamo organizzare la festa di matrimonio arrivano insieme e non ancora oddio nozze nozze si possiamo organizzare oh si bello il fatto che si spostano i sim significhe all'evento nozze ecco qua costo 1.6 milioni sim richieste 2 sposo e sposo ok ci sono ospite invitiamo a Daniela e Andrea Fontana fornitore di catering eh cosa claudio gentile mixologo secolo scaccio musicista Vincenzo Colombo si mi richiesti 2 ma di più no ma inventavo tutti questi no 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 museo neanche morto par mettiamo ma di no vabbè dai andiamo in questo lounge bar occultamento dell'irane innalzamento delle bandiere binare ecco vedete adesso il caricamento ci sta mettendo quando fa la musichetta capisci che è pronto e la sposa non si muove ahahah ahahah oh yeah ahahah i primi e i sposi hanno bisogno di una torta e di un'erco mezziale cosa impossibile concetti di una bevanda sai che gli ospiti guardino le cerimonie e ringrazionan ospiti per la presenza quindi c'è non c'è niente io mi sto organizzando questo matrimonio senza soldi ma vabbè lui lo sposo? si sposati così e così funziona i matrimoni senza anelli e così funziona i matrimoni senza anelli e così funziona i matrimoni senza anelli che cerimone spiore di paolo sta cambiando che cerimone spiore di paolo sta cambiando si sta cambiando si sta cambiando si sta cambiando oh che bello questo matrimonio così così molto giocosa clicco qui per utilizzare separazione unione di unità familiare ok ok com'è senza neanche un centesimo ah ok ok le unità familiare prendiamo l'oro mi sembrava strano vado speriamo non è che ho capito male io no perché non vorrei prenditi cura di te una bec ira capo lavapiatti che significa io vorrei andare al lavoro adesso è vace ti devo dire anche lui dovrà trovare un lavoro non ho capito e quindi cioè che significa che non posso controllarlo cioè non ho capito ah ok non sto capendo dove stanno tu è ora di andare al lavoro oh mamma mia che casino aspetta non fa niente vai a casa ah quindi quando non sono insieme sarà tutto questo casino bene bene devono andare per forza insieme in un luogo ah beh ovviamente ah un poco medesimo adesso ho capito allora c'è chi suona il telefono o lei rispondi ok tisha non ti sto presentando al lavoro se perderai troppi giorni il suo rendimento lavorativo ne risentirà lo sappiamo ma non ci posso fare niente andiamo adesso e non ci fare niente e non ci fare niente fighi fighi con lui e non ci vai un giorno che fa zappu lei ancora con il vestito di sposa la fighi fighi oh ma ah ma vi faccio vedere come funziona una cosa Accendi le candele, rendi tutto più romantico, parola di una felice sana per fare più risifiche per la prima volta. C'è un attimo di sconcertamento perché non stavo a capire molto. C'è un attimo di sconcertamento. Vediamo le sue abilità, carisma, cucina, logica e videogioco. La sua più alta è logica. Allora, una doccia qui. Fai una doccia. Una doccia normale no. La possiamo fare insieme. Adesso vediamo. Non c'è lavoro con lei che mi continua a lampeggiare. Niente, non ci sia andata, basta. Che fai adesso? Giochi, assicuro. Curso fra le opere d'arte. Ma i suoi tratti quali sono? Come si fa vedere qua? Snob, materialista. Coordinato, veloce a imparare. Fatto a cervello nerd. Fini di leggere tre libri, interessante. Servi la cena. Acchione e formaggio. Ma si, puntiamo tutto insieme. Deve essere figo però. è scomodissimo. No. Non lo trovo senza ancora. Prendi una porzione. No. 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 Non lo trovo senza ancora. Poi, insieme a questi simi devono comprare sempre quell'oggetto. È un guadagnario parlare dei propri vivi. Come è un oggetto generale di mille simole anni. Come è un figlio. Inoltre, insieme a tutti i vivi. Come è un figlio. Come è un figlio. Come è un figlio. Bambè, dai, si è un figlio. Come è un figlio. Il figlio dorme. bene si ragazzi questa anche questa parte finita non sapeva cosa dire questa parte finita del let's play mi spero che questo video vi sia piaciuto un bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video bye